E' arrivato il giorno in cui i centri per diversamente abili dell'ambito di Galatina avrebbero dovuto chiudere. Ma l'incontro tra istituzioni, famiglie e sindacati ha funzionato ed è servito ad avere la proroga di un mese. Ricorderete l'appello disperato dei parenti degli ospiti nel centro diurno di Soleto. I loro ragazzi, abituati a trascorrere parte della giornata nei centri in cui vengono seguiti da personale specializzato e nei quali soprattutto socializzano con i coetanei, dal 31 maggio non avrebbero più potuto frequentarli. E' tanto in base all'accordo Stato-Regioni che trasforma i centri diurni di riabilitazione in ambulatori di riabilitazione funzionale per casi complessi. Non tutti i comuni sono però attrezzati a dare un'alternativa a queste famiglie, che per questo avevano chiesto la proroga delle dimissioni forzate all'ASL. ASL che però, come spiegato dal direttore generale Valdo Mellone, non c'entra più nulla, sono gli ambiti territoriali a doversene occupare. Per chiedere che le dimissioni vengano procrastinate, almeno per dare un po' di tempo e a noi famiglie per capire bene e all'ambito per avere il tempo di organizzare questo servizio. Perché il provvedimento dell'ASL sicuramente è un provvedimento giusto nell'intento, ma ha visto tutte le conseguenze sulle spalle dei ragazzi disabili. Alla fine, dopo una serie di incontri tra sindaci e sindacati, si è ottenuta la proroga di un mese, ma in realtà serve più tempo. A Soleto, per esempio, deve essere ristrutturata una sede che una volta ultimata potrà ospitare i ragazzi. Per questo è stato chiesto l'intervento del prefetto. Abbiamo chiesto al prefetto che questa proroga arrivi fino a settembre, perché i sindaci dell'ambito di Caradina, siccome hanno delle strutture che potrebbero essere pronte fino a settembre, quindi abbiamo chiesto che l'ASL venga ancora in corso a queste famiglie e che quindi blocchi le dismissioni fino al primo di settembre, perché è il tempo utile probabilmente per sistemare tutte le strutture che stanno per essere sistemate.